Bene amici questa è la nuova Kia Niro e quando dico nuova intendo completamente nuova perché è nuova piattaforma design di rottura come Kia ci ha abituato ultimamente sotto al cofano solamente motori elettrificati perché c'è la versione ibrida con il 1.6 da 141 cavalli e 32 kilowatt di motore elettrico, la plug-in con 62 kilowatt ovviamente anteriori con 65 chilometri dichiarati di autonomia 11,1 kilowattora e poi la versione che vedete qua full electric con batteria da 64,8 kilowattora e 150 kilowatt di potenza del motore ma parliamo un po' di design perché questo è veramente diverso dalla versione precedente e a me personalmente piace proprio tanto davanti questi fari diurni a led ovviamente tutta la fanaria è a led hanno un disegno a battito cardiaco qui la presa di ricarica può succhiare fino a 72 kilowatt e vi faccio vedere il taglio laterale la lunghezza è di 4 metri e 42 cresciuta di 6 centimetri rispetto alla versione precedente poi entriamo perché anche dentro è molto molto diversa una particolarità che voglio farvi vedere qua una sorta di presa d'aria che sfoga dietro per andare a migliorare il CX e aumentare ovviamente le prestazioni e diminuire i consumi comunque molto ben nascosta diminuisce le turbolenze al posteriore molto bello il terzo stop su questo alettone e la tre quarti posteriore caratterizzata da questo montante che è disponibile in grigio o in nero che veramente la rende un po' diversa dai CX che siamo abituati a vedere parte posteriore cattiva dove vengono riprese per le luci non so se sono gli stop o se solo cattro infrangente ma sicuramente indicatore di direzione e retromarcia quel design a battito cardiaco vediamo se il baule si può aprire sì in maniera elettrica a svelare una capacità interessante 451 litri si riducono a 395 nella versione plug in che avrà la batteria immagino qua sotto ben organizzato il carico con questo vano dove si può andare a mettere qualcosa ma soprattutto divani che si possono abbattere 40 60 e abbattuti formano un piano unico questa non è la confezione del cavo di ricarica bensì la voilà cappelliera fatta con il 75% di materiale riciclato e come vedete ma non solo modulare anche ripiegabile cioè adesso io non so come si metterà ma immagino che si metta qua così a protezione ma se non vi serve non è quel marnone che non sapete mai dove metterlo no lo ripiegate e sta in quel sacchettino un po' tipo le tende del decathlon e oltre al vano posteriore sulla elettrica ci sono anche 20 litri qua davanti magari per mettere i cavi di ricarica batteria da 64,8 kilowattora dichiarati 463 chilometri sono ancora in fase di omologazione e 11 kilowatt in AC vi dicevo prima 72 in DC una cosa che mi piace il vehicle to load ovvero la possibilità di collegare un adattatore alla presa della vettura per succhiare fino a 3 kilowatt cioè ci possiamo collegare qualsiasi utilizzatore elettrico mi piace che ci sia l'illuminazione mi piace che ci sia un'indicazione della ricarica non mi piace o meglio mi piace in parte che il vano per la ricarica sia frontale il bello è che se avete una colonnina a destra o a sinistra comunque ci arriverete il brutto è che quando fate tanta autostrada e qua si riempie di moscerini aprirla non è bellissimo ovviamente presente l'ingresso Kiles ve la faccio vedere dentro apprezzo il fatto che tutti i comandi qua sul pannello porta siano con i pulsanti tra l'altro ci dicevano che molti materiali anche i pulsanti sono riciclati Arman Kardon per la sonorizzazione sedili elettrici belli i rivestimenti e il sedile passeggero come su EV6 ha la posizione zero gravity per le penichelle e una particolarità il cielo è in un materiale 50% carta e 50% riciclato molto molto particolare e sulla plancia si stagliano questi due display da 10,25 pollici con anche questo ulteriore display diciamo che è come su EV6 la disposizione che può fungere da scorciatoie per le varie funzioni e da comando per la climatizzazione qui abbiamo la possibilità della ricarica wireless la presa usb la presa accendisigari e la presa di tipo c sulla console centrale abbiamo la possibilità di riscaldare rinfrescare i sedili del parcheggio automatico di attivare ovviamente le campi posteriori e attivare il volante riscaldato ecco adesso io non ho a disposizione la chiave ma sulla chiave ci sono i comandi per il parcheggio da remoto quindi per far entrare e uscire la vettura automaticamente magari da un posto auto molto stretto su questa versione con l'infotainment da 8 pollici abbiamo la possibilità di android auto e carplay wireless invece sulla versione da 10,25 pollici c'è solo la possibilità di carplay android auto cablati diciamo che la struttura dell'infotainment è quella di EV6 dove ho approfondito vi rimando a quel video all'interno un po' di atmosfera lounge con queste luci personalizzabili su 64 tonalità che vengono riprese anche sul pomello in questo caso non del cambio le versioni ibride avranno il cambio a 6 rapporti ma una particolarità tra l'altro doppia frizione non c'è più la retromarcia perché la retromarcia verrà gestita esclusivamente dai motori elettrici anche il volante riprende molto quello di EV6 con i comandi posti in maniera diciamo ergonomica ecco io avrei perfetto una razza in più e il display qua davanti personalizzabile con una genialata che abbiamo già visto su molte Kia cioè quando si mette l'indicatore di direzione uno dei due strumenti circolari diventa specchietto virtuale con telecamera e qua dietro il passo è aumentato tantissimo spazio due spanne se i sedili regolato su un'altezza come la mia di un metro e sessantacinque ma tanto spazio anche se si regola il sedile del passeggero su un'altezza di un passeggero di un metro e novanta rimane comunque una bella spanna e un pezzettino due prese usb sui sedili c'è qua dietro la possibilità della climatizzazione e attenzione c'è anche una presa 220 con sciuco massimo 200 watt di prelievo bella questa forma della back del sedile perché permette di appendere una giacca cinture regolabili in altezza sapete che ci sta veramente comodi qua dietro io ho una bella spanna qua ci vorrebbe Pietro per capire come si sta anche se si è una persona un po alta ma a me sembra che di spazio ce ne sia parecchio ecco unica critica non mi fa impazzire il tetto apribile un po piccolino un po old style ma qua isofix che si raggiungono bene e abbiamo il bracciolo con due portabicchieri chissà se arriverà anche la versione col carico passante qua non c'è i prezzi non sono ancora stati comunicati ma vi do due chicche la prima è che arriveranno gli aggiornamenti OTA per i proprietari e la seconda che l'applicazione ha due novità la prima è che avvisa quando è rimasto qualcuno nei sedili posteriori e la macchina è stata chiusa quindi mi immagino quelle problematiche relative ai bambini che vengono dimenticati all'interno della vettura e la seconda è che magari nella versione elettrica non ha senso ma le versioni full hybrid e plug in hybrid hanno un avviso sull'applicazione quando la batteria dei servizi sta per scaricarsi e poi finalmente sulla versione plug in la possibilità della climatizzazione da remoto e sulla versione elettrica un nuovo software che permette di preriscaldare le batterie quando si seleziona sul navigatore la destinazione charger e è vero magari l'altra critica può essere che 72 kW di potenza massima in ingresso non sono tantissimi ma ci dicevano in chia che con questa funzione e con delle ottimizzazioni la curva di ricarica è costante verso l'alto per un buon periodo ciao fatemi sapere se vi è piaciuta nei commenti grazie grazie